Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi darò un consiglio, vi darò una mia opinione su tre mercati dove per me non dovreste mai, e dico mai, scommettere per avere dei profitti in un lungo periodo. Se poi volete giocare giusto qualche euro per divertirvi, è un altro discorso, ma se volete approcciare al mondo delle scommesse sportive come un investimento a lungo termine, è un'altra cosa. Prima di andare a vedere quali sono i tre mercati, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, tanto ragazzi a voi non costa veramente nulla, a me dareste una grossa mano. Partiamo subito con il primo mercato. Questo è quello più assurdo, e se c'è ancora questo mercato è perché c'è ancora gente ludopatica che scommette a questo mercato. Scommettere live ai calci di rigore. Quando c'è un calcio di rigore esce il mercato live, segna sì, segna no, segna sì, quota 1,25, segna no, quota 5 più o meno. Poi dipende sempre dalla partita, dipende sempre da chi sta battendo il calcio di rigore. Se proprio devo scommettere, mi voglio divertire, devo buttare 2-3 euro, mi vado a prendere la quota più alta. Perché? Perché statisticamente si sbaglia 1,7 rigori su 10. Quindi parliamo di quasi 2 rigori su 11, si sbagliano. Quindi se proprio devo buttare qualche euro, mi vado a prendere la quota più alta. Ma anche perché matematicamente a quota 1,25 ne dovete prendere, se giocate 1 euro ogni volta che avviene un rigore, ne dovete prendere 9 su 10. Quindi i rigori come si segnano, così si possono sbagliare. Quindi non credo che sia un buon mercato per investire. Il secondo mercato, anche questo è un po' come una roulette russa, come un po' giocare all'otto, è quello delle espulsioni. Come si può prevedere che un giocatore viene espulso? È quasi impossibile. Magari c'è una piccola percentuale per qualche giocatore a parte, ma ragazzi, i materazzi che di una volta non ci sono in questa nuova generazione. I stam che menavano di brutto non ci sono più. Anche con il VAR i difensori stanno sempre più attenti. Quindi, come dicevo, è come un po' giocare all'otto, perché non stiamo parlando di una quota 100, 120, che magari scommettendo per 80 volte, 90 volte lo stesso giocatore, un giocatore che magari è più predisposto agonisticamente parlando a dare più mazzate, ma è più probabile che verrà espulso. Però parliamo di una quota 20, di una quota 30, quindi matematicamente non è fattibile. Se proprio voglio anche qua divertirmi, scommetto i cartellini gialli, che poi anche qua è un po' in dilemma, perché ci sono sì tipster, tra virgolette, bravi sui cartellini, però non è facile sempre, alla fine, stare in positivo. Quindi, anche qua è un po' in dilemma. Io preferisco, sì, giocarli ogni tanto, però giusto per divertirmi quando magari c'è un derby, o magari c'è qualche partita importante dove i giocatori sentono la pressione, sentono la partita. Ci può stare, però parliamo sempre di un lungo periodo per avere almeno un profitto. Passiamo al terzo e ultimo mercato. Parliamo del mercato over 2.5 primo tempo, quindi prevedere 3 gol nel primo tempo, non dico che è quasi impossibile, però quasi. Perché parlo di questo mercato? Perché sui vari social vedo ancora tanta gente tipster che scommette all'over 2.5 primo tempo, quindi prevedere 3 gol, poi sotto scrivono abbiamo persa per una. È normale, perché non è facile, non è facile prevedere 3 gol nel primo tempo. Se andate a vedere le prime 3 giornate di campionato, andate a vedere quante partite hanno fatto almeno 3 gol nel primo tempo, la quota anche qua è invitante, però dipende sempre dalla partita. Si possono trovare quote 5, 5.5, anche 6, però parliamo di una partita con pochi gol. Se magari andiamo a prendere, non lo so, Bayern, Monaco, Stoccarda, la quota è di 3, 3.5. Quindi, se volete, come alternativa, giovate over 1.5 minimo 2 gol, quota media 2-2.20, anche magari scommettendo handicap asiatico, mi raccomando asiatico e non europeo, 1.0, che significa che con un gol ci viene rimbossata la scommessa, con 0 perdiamo la scommessa, con 2, la prendiamo, quota media 1.70, è un po' più bassa, però magari se fanno solo un gol ci viene rimbossata la scommessa. Ragazzi, mi raccomando, iscriviti al canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!